Buon pomeriggio a tutti, grazie per essere qui. Oggi abbiamo due film del concorso internazionale, il primo ho l'onore di presentarlo, invito subito Natalia Almario. Il film è Dopamina, viene dalla Colombia, ci fa sempre piacere introdurre tutti i film, però quando poi è un'opera prima ci fa ancora più piacere, per cui siamo contenti di ospitare questo primo lungometraggio qui. Come al solito, un brevissimo saluto della regista, di Natalia, e poi avremo un bel po' di tempo per un incontro, e quindi anche voi potrete fare tutte le domande che volete. Buonasera a tutti, vi ringrazio di essere venuti alla proiezione del film, sono un po' nervosa, e direi che adesso guardiamo il film e poi alla fine, dopo la proiezione, conversiamo sul film. Va bene, ci vediamo tra poco.